E adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di montagne e di nuove tendenze. Taglia il traguardo dei tre quarti di secolo, la saleva nota ditta altoatesina che produce materiale tecnico per alpinisti ed appassionati della montagna. La ricorrenza è stata occasione tra il resto per presentare le ultimissime novità in vista della fiera più grande del mondo per gli articoli sportivi. Come ha spiegato Heina Oberauf, presidente del gruppo Oberalp, saleva. Proviamo già a fare un preview qua a Bolzano per far vedere le innovazioni. Ci sono innovazioni mondiali come l'attacco più leggero del mondo per sci alpinismo, un scappone che rivoluzionerà totalmente il mercato dello sci alpinismo. I riflettori sono puntati sul Free Sky Mountaineering, ovvero lo sci fuori pista praticato scendendo dalle vette rigorosamente da raggiungere in scalata, senza impianti di risalita e dunque senza danneggiare l'habitat alpino. Secondo le nostre analisi, un 30% fra 4-5 anni degli sciatori si vesteranno e si comporteranno in un modo diverso. Lo sci fuori pista diventerà sempre un focus più importante e soprattutto per questo abbiamo provveduto a sviluppare delle soluzioni mirate sia nell'ambito dell'abbigliamento ma anche nell'ambito dell'attrezzatura e soprattutto anche su quello che è sci e scapponi con i nostri marchi saleva ed Inafit. Per questa nuova disciplina è stato studiato del materiale tecnico adeguato come sci e scarponi particolarmente leggeri e indumenti studiati ad hoc.